cosa ripariamo oggi? oggi vi facciamo vedere come puliamo il layer inferiore e superiore dallo stagno originario apple utilizziamo la treccia di saldante e lo stilo con la punta tagliata a 45 gradi e flussante logicamente dove ce n'è bisogno andiamo a depositare il flussante dove vediamo che lo stagno è molto tenace da togliere ci si aggiunge flussante poi con la treccia e il nostro stilo tagliato a 45 gradi con la punta a 45 gradi andiamo ad asportare lo stagno originario apple che è comunque tenace giriamo tutto intorno sull'air inferiore sull'interposer per essere precisi e vediamo di portare a zero tutte le piastole grazie puliamo per bene l'interposer con un straccetto lisopropilico grazie ora ripuliamo il layer superiore facendo molta attenzione ai componenti che sono vicino alle piastole quindi condensatori resistenze e piccoli integrati e tensione perché la treccia potrebbe spostarli col calore finito una bella pulita con un batuffo di cotone isopropilico questo è tutto e al prossimo video ciao ciao cosa abbiamo riparato oggi grazie